Cosa faremo oggi? A parte piangere, fare la squadra nuova. Vediamo cosa riesciamo a fare. Io ho paura a mettere San Maximen, Saka e Bappé assieme. Sono i tre attaccanti che mi fanno bestemmiare Dio, io lo so già. Ashley Cole qualcosa mi fa pensare che non è così forte come penso. E se il valore è di 160.000 potrebbe essere un indizio che non sia proprio quella carta devastante che Matteo crede. Mi sono mai fidato di quello che dice la gente? No! Mi fiderò oggi? No! Andrò a giocare alla mia Food Champions con Ashley Cole? Assolutamente sì. Sto passando la palla ad altri ragazzi. Se prima o poi passate la palla a chi dico io mi farebbe molto piacere. Eh Gullit cosa dici? Oh Ido. Eh? Eh? Topolino? La massima palla a chi dico io? Ok, ok, ok. Stavo per iniziare un po' nervoso. Eh Zidane è entrato con furore però. Zidane è tornato carico. Il weekend gli ha fatto bene. Oh vai, c'avevo proprio voglia di uno con la difesa 5. Allora il Guaran. Perfetto. Perché non si è buttato per terra? Porca boia. No Matteo con questo devi sempre tergiversare. Se io non ho da ladra se tiro da davanti porta non faccio gol. Questo da tu dai. Ma vaffanculo va. Questo è uno che prende palla e va dritto con Kane. E come ho preso gol facciandolo andare dritto con Kane. Eccala che gliela pareggia subito. Vai da Bellingham il nuovo innesto. Ma io santo maximino ti ripeto. Cioè perché mai t'ho fatto. Fosse per me te a vangare. Potreste andare. Ah sì, sto facendo il Tiki Taka. Vabbè, eh vabbè. Allora non sono il maestro internazionale del Tiki Taka. Il maestro internazionale. Cosa sto dicendo? Il maestro internazionale del Tiki Taka. Raga ma non riesco mai a tirare col santo maximino. Porca ma... Colpo di cazzo al volo. Per fare il colpo di cazzo al volo mi sono dato un cazzottone nelle palle. Si ripetono come dei pazzi amici. Cioè ti rendi conto che mi ha tenuto e non hai fischiato un cazzo arbitro di merda? Appena ti trovo in discoteca ti faccio un buco del culo che ti passa la voglia di non fischiare. Fortunello? Sì, ma la fortuna aiuta gli audaci. E io sono un audace! Io madonna, ma io potrò fare delle azioni del genere sprecate da dei vagabondi? Ma io mi innamoro, ragazzi. Ma io mi innamoro del mio gioco offensivo. Stupendo? Stupendo? Ma no, ma fai un passaggio di schiena, porco zio. Ma un po' di fantasia! Se avessi i piedi buoni sarei Ronaldinho. Vedo cose che i umani normali non vedono. Madonna sacca, addio bestia. Dai, ma non è vero che dio cazzo vi schiantate uno di fianco all'altro! Dai che abbiamo l'ultima azione, se ti muovi dio bello. Ma va, te la fa il culare, allora. Non è vero che gliela fa fare, bello. No, se prendo qualcosa, spago qualcosa. Ragazzi, ha preso palla a un minuto e venti, ha preso palla. A un'eventi ha preso palla ed era a metà campo, sto rincoglionito. Che gli hai fatto farla? Chi è l'arbitro? Davud, io ti ammazzo. San Maximiano, fai una cosa, dai. Vai fuori, dai. Sei fuori squadra. Dai, non ti presenta neanche l'allenamento domani perché non ti faccio neanche più entrare per tutta la vita. Stiamo parlando di un segaiolo che non è capace neanche passare la palla a quello che c'è davanti. Dai, ma vai a fare un giro. Dai, ma va a f***o. Dai, ma va a f***o. Dai, dio. Fammi tirare, fammi tirare qualcosa, dai, fammi tirare. Ale Pecchegno e Dife, mi avete rotto il cazzo. Voi, NBA, Ale Pec... E Manu, chi cazzo siete? Scrivetevi per WhatsApp, porco di... MAMA! Nella mia bottiglia non c'era tutta quest'acqua che c'è qua. Ho capito che lanciare le bottiglie d'acqua è più conveniente. Cioè, con un euro me la prendo nuova. L'unico effetto collaterale della bottiglia d'acqua è che dopo devo pulire per mezz'ora perché mi si annaffia tutto. Tira, tira, tira. Che non tiri, devi tirare. Ma non va più il joypad. Posso dare la colpa all'acqua? Mamma mia, che boccia che io ho visto. Ma perché si allunga la palla? Vedete perché non tiro? Perché gli altri tirano, fanno dei gol assurdi, di me non entra mai? No, non fanno time verde, tirano e basta. Ho il cervello che pensa a troppe opzioni. Avete presente quando entrate in un parcheggio che ci sono tutti i posti liberi? Siete in difficoltà e non sapete in quale parcheggiare? Il mio cervello è uguale, cerca 8000 finalizzazioni. Quando ne basterebbe una? E quindi dopo lì mi perdo. Poi mi dite perché uno non deve bestemmiare. Cioè io non gioco a calcio, io dipingo dei quadri comunque. Cazzi non lo so eh, quasi quasi eh. Facciamo il saltino di là della cuaglia? Sì comunque cioè io vorrei far vedere la palla che hanno perso i miei eh. Totalmente libero, ho chiesto il passaggio a un altro totalmente libero. L'ha data al difensore. Ma mi può tornare un pallone a me? Ah no, ma tutti i palloni che recupero gli ritornano nei piedi a questo? Se muove manca un peso di ore. Mamma mia sto cappellone lungo di merda oh! Ma chi cazzo è quello lì? Difensore centrale. Chi è questo cazzo di disgraziato che mi strarompe i coglioni fisso? No! L'azione più brutta del secolo! A favore finalmente! Godo come un toro! Nesta ragazzi, nesta. Sei mezzo buono? No! Ma che cazzo è sti animazioni che hanno buttato su di sta gente che... Sì ma io Dio... Perché oggi ce l'ho sta voglia di tirarlo sto cazzo di joypad? Che animazione è? Quella di Bellingham! C'ha la palla tra i piedi! Viene sbalzato all'indietro! Non si sa da quale entità... Cioè Mattaus è alto quanto il suo cazzo di pollicione... ...dato nel futuro. Beh oggi i Belcio sto passaggio di prima sono illegali. Che cazzo ha parato? Ma cosa cazzo ha parato? Ma dai! Ma guarda ti chiami proprio bene? Ma fa basta! Dai ma fa basta! Gliela fa fare? No gliela fa fare. Gliela ha fatto a fare. Gliela ha fatto a fare. Gliela voleva far pareggiare. E cosa fosse una mezzala? Soffre un po' la pressione sto ragazzo eh. Ma non è vero mai. Bel non può prendere la palla in un'azione del genere. È scientificamente impossibile che lui prenda la palla. Questa è salvato il ragazzo. Esplosioni! Mamma mia quanto cazzo abbiamo giocato bene. Cosa fai dietro brutto scemo? Ti si è messo in coda? Porco zio gli picchetta vilano? Ma vaffanculo! Mamma mia che ci ha battata Zidane! Questa palla che passa in mezzo a due. Come fare? Avete notato lo stop di Mbappé vero? Io spero che voi abbiate notato lo stop di Mbappé perché sono indeciso se fucilarlo vivo o prima gli do una bastonata nel capo. Ma questo para tutti sto gatto di merda che c'ha in porta eh? Beh l'azione! Ma dove cazzo siete? Brutti! Io faccio un passaggio a quel coglione di Mbappé che c'ha 200 km liberi! Stop! Dai ma non mi far parlare! Dai non mi far parlare! Ma ho chiesto il passaggio a quell'altro! Dai vabbè però non ascoltano! Non ascoltano! Dai Ashley Cole! Sei disperato sta partita! Ragazzi! C'è Courtois che è insuperabile! Ti pareva! Ti pareva! Ti pareva che non prendessi un gol di merda! Dai ma vaffanculo dai! No dai ma che l'ho! Sei alto 1,60 con 99 di agilità! C'hai messo un quarto d'ora per girarti! Ma dai ma dai ma dai! Fammi fare i cambi! Fammi fare i cambi per Dio! Se non mi dai neanche il tempo di mettere pausa! Appena fischiato fuori gioco sto coglione! Poi ti insegno a fare le azioni di calcio al posto che fa tre gol col gollino della merda! Eh fai lo stop che hai sbagliato! Ah lui lo stoppa bene eh! A lui lo stoppa bene! Non fai come con me! Che davanti porta! Appa! Perché non ha fatto sto stop a me? Da solo contro il portiere! Con 50 metri di campo libero! Quattro gol della merda ha fatto sto cazzo di m***a! Oggi ragazzi c'ho un talento offensivo che non ho mai avuto ma come l'hanno mai avuto! Ma perché non esci Bel? Ma perché non ti crolla internet? Deve venire l'allerta rosso! Il diluvio universale! Porco zio torna! No ecco l'arca! Perché non ti prende il primo fulmine la tua casetta dove c'hai la connessione che ti esplode adesso sto 1 a 0! E si gode tutti! E vinco sta partita! Un po' esagerato? Magari sì! I miei figli il fisico non sanno... Ma cos'è sto passaggio? È un passaggio caricato quattro tacche per cambiare lato? Tu mi fai una malda... Ma è giusto che premio gol se giocate così! Ma quattro tacche caricato devi girare lato! L'hai dato al dici centrale a mezzo centimetro! Oh le para! Ah le para! Le para! Oh son contento per te che porca madonna... Trovassi anch'io una volta ogni tanto! Ma perché in avanti? Ma perché in avanti il passaggio? Ma se faccio il filtrante glielo fai sui piedi! Se faccio il passaggio normale glielo fai su piedi! Ma veramente? Hai fatto fallo su due e non hai fischiato uno? Beh è incredibile! Hai fatto un record! E no! Vabbè! Cava i pesi dalle caviglie dai! Dove va Ashley Cole? Dove va Ashley Cole? Aveva la palla davanti porco stia non la andava a prendere! Ashley Cole aveva la palla lì a mezzo centimetro! Non ci andava! Finita 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 finita! Ma Saka pensi di farti vedere? Ma io ho mai... Ma io puttana madonna di sfigati come me ne ho visti veramente pochi nella vita comunque eh! Dove cazzo ha tirato? Ma raga ma raga! Ho fatto tre tiri di merda! Della merda! Oh me li ha parati tutti sto pezzo di cazzo! Marquez ma ti è mai venuto in mente di esplodere? Che cos'è? Questo ragazzi era un passaggio forte e teso! Era un passaggio forte e teso! RBX! No che sopeti Giardinio! Non ho neanche premuto tondo! Non ho neanche premuto tondo! Cioè io non ho premuto niente st'azione! Ma vaffanculo ma fai gol sto bastardo francese! Ma che cazzo vai! Dai ho poi si mi ha dato un calcio nel culo sono tornato a casella di partenza Adesso giochiamo a Monopoli ero di nuovo alla casella 1 Stavo bestemmiando! Stavo per bestemmiare! Ho preso gol Cosa posso rompere? La bottiglia lorotta? Niente sto fermo Poi ti insegno Poi ti insegno Poi ti insegno quando vuoi Lezioni di calcio No vabbè raga No vabbè raga No 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 Dai strezzo Ma gliela Non è vero che non gliela ha dato a Mbappé Gliela ha dato a San Maximen sto idiota Per Gullit Madonna Stupendo Ma tira bene! Oggi comunque vedo un calcio Oddio non posso sbagliare Non posso sbagliare Oh oh attenzione cosa sta per arrivare La pisellata aerea Pisellata aerea Cosa fa mio babbo mi chiama Cosa chiama Cosa chiama mio babbo di hobby Partita del 18 2 mi chiami Ma cosa chiami? Ma non ti rispondo mai Ma 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 mai Ma neanche se mi dici Sono di sotto In garage al freddo Al gelo A culo nudo Livello 2 C'abbiamo 4 picco 84 2 toz con scelta Scusa ho detto? 2 toz con scelta 2 picche Buono dai Secondo picchettino Ma perché ho tutti questi doppioni? Ho il club vuoto Sono 4 disgraziati nel club Picco di merda Allora Non mi hai dato ancora un toz come dio comanda Davis tutta la vita Ma che merda Ma sono i 5 più brutti Ma ti pigliasse Sei nacciacco Ti pigliasse Almeno i toz negli altri Cioè Dai veramente Sono Ok Iniziamo a ragionare Dai per favore Cos'è sto nigeriano qui? Il galo No Prima mi hai dato tanto Ci sta Ci sta che adesso Ti freni un attimo 3 toz Bundesliga Volete ridere? Vai Venite a me Venite venite Oh T'aspetto eh Di corsa Vieni di corsa Eccolo Bello Bellino Bellino Dio caro 20 partite in un giorno 18-2 per trovare La Crua Cobel Colomuani Dei Pick Davis E quell'altro disgraziato Sanè Mi viene da vomitare Pensa a me Dio Bopo